Ok, buongiorno a tutti, lo dico soprattutto per chi ci vede poi in video. Oggi in questa lezione di tre ore continuiamo a parlare della programmazione asincrona in JavaScript, anzi, sì, continuiamo perché abbiamo iniziato l'altra volta con un po' di introduzione, ma giusto per ricordarvi, abbiamo parlato delle callback, abbiamo detto che le callback possono essere sincrone, come capita per esempio nella programmazione funzionale, e poi stavamo iniziando a parlare della programmazione asincrona, e quindi delle callback asincrone. E quindi adesso andiamo avanti a parlare dei callback asincrone, e poi oggi l'altra cosa che sicuramente faremo è un esercizio simile a quello dell'altra volta, sui voti degli esami, ma utilizzando il database, utilizzando tutte le cose asincrone che vedremo così, e da capire meglio che cosa, come funzionano, se ci sono casi particolari, se ci sono cose da tenere sott'occhio per lavorare con queste cose. L'altra volta ci siamo fermati qui. Stavamo dicendo che useremo SQLite, che è un database su file, molto snello, molto piccolo, che va molto bene anche per applicazioni tipo queste che faremo nel corso, quindi cose relativamente piccole, prototipali, diciamo così. Non va ovviamente bene se dovete fare un sito, un'applicazione web molto complessa che ha tanti utenti, che fa tante query complicate, perché ovviamente è su file ed è appunto piccolino. Ma per quello che ci riguarda a noi è molto comodo e molto snello, proprio perché essendo su file, per passarvi un database, mi basta passarvi il file che corrisponde al database. E non c'è neanche niente da installare, nessun servizio da far partire, eccetera. E dicevamo che un modo per utilizzare SQLite è utilizzare in JavaScript, con Node in questo caso, è utilizzare una libreria che si chiama SQLite3, che si installa come abbiamo installato DJS l'altra volta, e poi si importa esattamente come abbiamo importato DJS. E poi vedete si può, si apre il database, si può chiudere il database, e ovviamente in mezzo, tra l'apertura e l'acquisizione del database, ci saranno delle query che faremo. Select asterisco, select asterisco from where, insert, update, insomma query SQL standard in base a quello che ci servirà a fare. Allora, vedete come innanzitutto apriamo il database. Essenzialmente facciamo new SQLite.database, passiamo il nome del database su disco, in questo caso nella cartella in cui si trova questo programma, e poi passiamo una callback, in questo caso come arrow function. è una callback che ha un parametro che è R, e per gestire l'eventuale errore che arrivi dal database, magari il database non si riesce a aprire, il file non è disponibile, in qualunque tipo di errore, per esempio in questa fase, la query è malformattata, manca una parentesi, manca un valore, manca qualcosa, e quindi prima di tutto gestiamo con questo if R l'errore, in qualche modo, dipende da quello che dobbiamo fare. E poi, se invece non c'è errore, potremmo avere un else, e quindi lavorare con quello che la query ci restituisce. Se abbiamo fatto una select asterisco da una tabella, ci restituirà un insieme di righe della tabella, un insieme di tuple, e noi lavoreremo sulle tuple, faremo quello che dovremmo fare. E questo, vedete, è una callback. Questa è una callback, come abbiamo detto, asincrona, quindi a differenza di quelle, per esempio, della programmazione funzionale, che sono asincrone. Cosa possiamo fare con questa libreria? Possiamo fare le operazioni più comuni, come vi ho detto, di SQL, e tutte le operazioni di SQL, e in particolare lo possiamo fare attraverso tre metodi. C'è il metodo dbAll, che ha tre parametri. Il primo parametro è la query SQL da fare. Il secondo parametro sono eventuali parametri da aggiungere alla query SQLite. Quindi select asterisco from tabella dove la data è maggiore di oggi. Allora, questo oggi, che può anche essere domani, che può anche essere ieri, può essere un parametro che passiamo in questo secondo blocco, che accetta un array di parametri. Se è vuoto, vuol dire che non ci sono parametri da passare alla query. Se non è watt, se ce n'è uno, vuol dire che si aspetta un parametro, possono esserci ovviamente anche molteplici parametri. E poi c'è una callback, di nuovo, che in questo caso, a differenza dell'apertura del database, ha due parametri. Uno è sempre l'errore come prima, e l'altro è questo rows, che rappresenta le righe che vengono restituite dal database. Quindi select asterisco da esami restituirà in questa variabile rows, tutti gli esami che sono contenuti nel database. Questo metodo serve per fare query in cui il risultato prevede di avere molteplici tuple, molteplici risultati. Per cui rows sarà un array. Poi, se anche ritornasse una cosa sola, va bene, perché sarà un array da un elemento solo, ma l'idea è che si usa all quando si fa una query per, appunto, recuperare molteplici informazioni dal database. se invece siamo interessati a recuperare un'informazione o solo la prima riga, perché ci interessa solo il primo match, o perché sappiamo che ci sarà solo un elemento, perché magari facciamo un select in base all'ID, o nel caso del corso facciamo un select in base al codice del corso, che noi sappiamo all'interno di una università essere univoco, non ci possono essere due corsi che hanno lo stesso codice. Questo get ha gli stessi parametri di prima, ma prende solo, restituisce solo una riga, vedete che rows in questo caso non è scritto plurale, ma è scritto singolare, e quindi restituisce solo il primo elemento che viene restituito da questa query. Ripeto, se viene tipicamente usata quando o non ci interessa recuperare più informazioni, ci basta la primo match, oppure sappiamo che ci sarà un match solo, per esempio quando si fa una select su una chiave primaria. Gli altri parametri sono gli stessi, quello che cambia è il nome, che non è all, ma get, e il fatto che restituisca una riga. Poi c'è la each, each è un po' meno usato rispetto a get e all, nella pratica, perché forse copre un caso più particolare, ma essenzialmente esegue la callback, quindi quello che succede qui dentro, sulla query e sul risultato, è una volta per ogni risultato. Quindi io faccio una select all, ho cinque elementi, questa callback viene, avrò in risposta dal database, cinque tuple, questa callback viene chiamata una volta per ogni tupla. Quindi qui questo row sarà la prima volta, la prima tupla restituita, e farà questa operazione. Poi il row assumerà un altro valore, facciamo finta in questi cinque, e allora verrà rieseguita la callback. E poi terzo valore, e così via, fino al completamento del risultato ritornato da questa parte SQL. Quindi mentre all restituisce tutto, get restituisce una cosa sola, each esegue del codice che è nel corpo della callback, una volta per ogni risultato restituito dalla query SQL. E infine c'è un altro metodo che si chiama run, che di nuovo è molto usato, ovviamente, che ha più o meno gli stessi parametri di prima, ha prima di tutto la query SQL in formato testuale, sempre i parametri eventualmente, se bisogna passarli. In questo caso ha solo un R come parametro da callback, perché questo run viene eseguito, viene utilizzato, per gli statement che non restituiscono niente. Quindi come create table, come insert, come update, quindi quello che cambiano, quello che cambia il contenuto del database essenzialmente. E ci dà errore, se c'è un errore sul database, altrimenti non ci restituisce niente. In realtà la callback, la funzione di callback, e anche ad altri si è bloccata la slide. Adesso. Ok, sì. La slide run è quella che dovete vedere. Va bene. Ditemelo se ricapita. Allora, dicevo, in questa slide run, in questo run, serve appunto per inserire, o per modificare il database, quindi create table, insert, update. Ha gli stessi parametri di prima, tranne il, un risultato che ritorna, perché non ritorna, non è utilizzato appunto per, per fare query che ritornino qualcosa, ma solo per, appunto, inserire, creare, aggiornare valori nel database, ma nella funzione di callback, se si volesse, questa funzione mette a disposizione due attributi, due variabili. Uno che si chiama changes, che rappresenta il numero di righe che sono state cambiate da l'operazione fatta in SQL. Per esempio, se voi aggiornate quattro tuple all'interno di un database, questo changes sarà uguale, vi darà il risultato quattro, così voi potete controllare, se volete, quante tuple sono state cambiate, quante righe sono state cambiate con la vostra operazione. Quindi, se sapete che ve ne devono cambiare tre, e questo numero è due, sapete che c'è qualcosa che non è andato. Bene. Oppure, e questo vale per le query che sono del tipo insert, c'è anche una variabile che viene fornita da questo metodo che si chiama last id, all'interno della callback è fornita, che si chiama last id, che è il numero dell'ultima, dell'id dell'ultima riga inserita. Quindi, se avete una tabella con cinque righe all'interno e fate un altro insert, quest'id sarà sei. Quindi l'id di riga all'interno del database. Così sapete che non solo l'inserimento è dato a buon fine, perché non ha generato errori, ma anche che qual è l'id dell'ultima tubla inserita, quindi quella che avete appena inserito. Nel caso vi serva, per esempio, recuperare altre informazioni a partire da quell'identificativo o perché nel programma usate quell'identificativo per altri scopi. Quindi sapete che avete inserito con successo e potete visualizzare a schermo, stampare a schermo l'oggetto recuperato con quello specifico id. se servisse. Si vede la slide cambiata adesso, sì? Ok. Bene. Vi dicevo che il secondo parametro di tutti questi metodi è un array che può contenere dei parametri da passare alla query SQL e questo è un esempio. Abbiamo la query SQL che dice select asterisco from course dove il codice è punto di domanda e questo punto di domanda quando la query viene eseguita prenderà il valore che è inserito qui in questo caso in code. Se ne avessimo molteplici punti di domanda dovremmo avere tanti elementi nell'array quanti punti di domanda che abbiamo. Questo è un placeholder questo punto di domanda per appunto fare questa operazione e la nota importante è quella scritta qui che quando dovete passare un valore in una query come in questo caso è fondamentale ma questo è indipendente da javascript quando si usa un database e si fanno delle query in codice sempre fare così è fondamentale usare le query parametriche come in questo caso e mai e lo ripeto mai la concatenazione di string o la manipolazione di string quindi non code uguale chiusa virgoletta più variabile e neanche code uguale dollaro aperta graffa variabile chiusa graffa ma sempre la concatenazione di string scusate sempre le query parametriche in questo modo perché ci permettono permettono poi al database soprattutto quando saremo nel web di essere più resistente ad eventuali per esempio attacchi o eventuali SQL injection e cose così quindi mai fare manipolazione delle string quando si fanno query sul database in codice sempre usare le query parametriche come la libreria mette a disposizione in questo caso questo è il meccanismo il punto di domanda laddove c'è bisogno di un parametro e il parametro all'interno di questo array se l'array è vuoto non ci sono parametri ovviamente e vediamo un esempio di questo vedete così io devo aumentare un po' lo zoom oggi vi faccio tante domande scusate scusate diciamo così ma cerchiamo di stare anche svegli sì posso aumentare ok ok allora questo vabbè se voi andate sulla pagina del corso e dove ci sono la lezione di oggi c'è un link codice presente nelle slide che porta su gtab dove c'è qui sono tutte queste questo codice che vi sto facendo vedere che è il codice che o è riportato nelle slide o è menzionato nelle slide citato nelle slide quindi questo questo è esattamente il codice che è riportato qui quindi è nelle slide invece di far copia e incolla lo abbiamo anche in maniera separata allora lasciate perdere al momento fatemelo ingrandire ancora un po' così leggo meglio anch'io lasciate perdere al momento le cose commentate allora cosa fa questo 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 programma vabbè importa SQLite 3 apre il database esattamente come abbiamo detto che database uno che si chiama Transcript SQLite che cosa c'è in questo database in questo database lo possiamo aprire qui adesso questo magari un po' piccolino ma essenzialmente ci sono due tabelle e questo non so se si può aumentare lo zoom no cioè no direi di no e ci sono essenzialmente due tabelle vabbè ve lo racconto a voce ci sono essenzialmente due tabelle una tabella che si chiama corso e corsi e una tabella che si chiama score e la tabella corsi ha sette corsi con un un campo codice un campo nome un campo crediti quindi per esempio c'è World Application 1 6 crediti e poi c'è una tabella score che ha il codice del corso per cui è stato superato un esame il voto dell'esame una 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 colonna lode che è 0 se la lode non c'è e 1 se la lode c'è e la data in cui è stato passato l'esame di quello specifico corso quindi è quello che abbiamo fatto l'altra volta in codice ma diviso su delle tabelle così da una parte abbiamo tutti gli esami diciamo così nel carico didattico e dall'altra parte abbiamo invece solo gli esami superati con un voto sostenuti con un voto quindi registrati diciamo così quindi questo è un database molto semplice due tabelle che possono essere collegate attraverso il parametro attraverso la la colonna codice del corso che da una parte in corso si chiamerà codice e invece in score si chiama course code ma è sempre lo stesso quindi apre questo database se c'è un errore durante l'apertura lancia l'errore lo lancia nella console e poi cosa fa? fa una select e asterisco da corso facendo poi una join con l'altra tabella corsi in modo da avere tutti i corsi con le eventuali data di data e voto di superamento nella stessa nello stesso risultato quindi dato che una select all è una select asterisco da corsi ci aspettiamo tante tuple vogliamo anche avere un risultato di tante tuple e possiamo fare db all con questa query SQL vedete non passiamo un secondo parametro quella cosa quella query parametrica perché è un parametro opzionale se volessimo passarlo potremmo passarlo così come un array vuoto è equivalente questo può aiutarvi se volete a ricordarvi che c'è quel parametro in quel punto specifico quindi è più facile se invece avete poi una query parametrica avete un template diciamo così da copiare e incollare all'interno del codice modificandolo c'è poi la callback errore ROS se c'è un errore lo lanciamo altrimenti dato che questo tro finisce completa questo altrimenti per ogni riga ritornata dalla tupla la stampiamo a schermo ok quindi proviamo a ma prima di tutto devo fare npm install perché non c'è la cartella node modules quindi lui mi scarica e mi installa SQLite 3 e a questo punto possiamo lanciare il programma si chiama transcript e vedete che il programma effettivamente funziona ci restituisce questo corso nel database c'era solo un corso che era stato superato gli altri che erano invece gli altri sei erano invece solo elencati quindi c'è information system security che non è stato passato ma abbiamo tutte le informazioni codice, nome, crediti codice del corso di nuovo perché stiamo stampando quello che ci restituisce il database così com'è il voto la load e la data passata poi il computer architecture invece è stata passata con un 25 il primo febbraio del 2021 e poi ci sono gli altri corsi gli altri sei corsi tutti senza ovviamente un esame quindi la query viene fatta e vedete apparente come dire funziona esattamente come ha funzionato tutto finora però ricordate che questo è quello che vi ho detto è una query asincrona questo cosa vuol dire fatemi scommentare questo che cos'è che sto facendo beh essenzialmente fatemi commentare console.log cosa sto facendo beh sto facendo la stessa operazione di prima solo che invece di stampare le righe qui in questo ciclo le metto in un array results e le stampo dopo la callback quindi vedete console.log quindi invece di stampare qui stampo qui in un certo senso mi dico mi salvo il risultato del database in un array così posso manipolarlo in un momento successivo nel codice dovunque questo sia allora tutto questo vi anticipo se questa query fosse sincrona se questa callback fosse sincrona funzionerebbe in maniera fantastica vi faccio vedere cosa succede invece dato che questa query è asincrona quindi io lo lancio esattamente come prima e vedete cosa succede stampa gli asterischi quindi questo console.log.ro non stampa niente poi se volete possiamo anche provare a dire console.log o andare in debug tipo sono qui per verificare che io effettivamente entri in quel ciclo e vedete non fa niente non entra nel ciclo perché secondo voi perfetto sì esattamente come state dicendo in chat perché però lo diciamo magari per tutti così perché questa porzione viene eseguita prima che la callback ritorni e quindi results come dice giustamente Lorenzo in questo caso non ha diciamo così a lunghezza zero da questo esempio ma diciamo che non ha sicuramente la lunghezza giusta non ha non contiene tutto quello che deve contenere in questo caso non contiene niente potrebbe invece contenere magari solo un elemento questo perché come funziona javascript in questo caso funziona che lui esegue la prima riga poi esegue l'apertura del database che in realtà anche lei è asincrona ma è molto veloce poi inizializza result come un array vuoto crea la stringa chiama dball e dice a dball eseguiti esegui la callback e poi quando vuoi con i tuoi tempi prendetela comoda quando hai finito di eseguirla ricordati di dirmi qualcosa di dirmi che l'hai finita di eseguire e dopo aver detto questo esegui questa riga e poi esegui subito questa e andrà a vedere il risalto in quel momento specifico come dicevate in chat e il risalto in questo momento specifico se questa callback non è ancora finita sarà ovviamente vuoto e quindi non stamperà quindi non entra in questo ciclo e non stamperà niente allora come possiamo ovviare a questo problema in questo in questo momento se dovessimo non solo stampare ROM ma manipolarla no timer e andiamo a complicarci ancora di più la vita perché anche il timer è asincrono se noi dovessimo togliere un elemento da questo result esatto spostare adesso il for c'è già in questa callback quindi abbiamo già console log ma immaginiamo di dover togliere un elemento da result ecco da raw allora qui potremmo scrivere rose.filter qualcosa quindi lavorare all'interno della callback quindi spostare tutto quello che riguarda il database all'interno della callback tutto quello che manipola rose all'interno della callback questo ha un effetto che la callback diventa molto molto grande lunga perché ovviamente se devo fare tutto quello che dipende dal risultato della query qui dentro qui dentro ovviamente questa funzione diventerà molto molto lunga a un certo punto però in questo caso risolve il nostro problema perché così questa funzione questa callback come dire non deve dire niente al resto del programma al programma principale diciamo che l'ha chiamato ma semplicemente si fa gli affari suoi si fa le sue cose e quando ha finito ha finito ok questo può funzionare così cosa succede aspettate che non so come si chiama il file e nelle slide c'è questo che abbiamo detto essenzialmente cosa succede se apriamo se guardiamo questo secondo voi allora questo cosa fa come prima per il database poi fa per dieci volte fa un insert allora questa questa database è essenzialmente una tabella con una una colonna che è numeri e 1, 2, 3, 4 numeri e cosa fa questo? dice per dieci volte inserisco il numero 1 nella tabella quindi tante volte 1, 1, 1, 1 e poi faccio un select count asterisco come totale dai numeri quindi essenzialmente faccio una somma dei tutti i numeri presenti in quella tabella quindi tutte le volte che faccio la prima volta che lo eseguo se la tabella è vuota metterò il numero 1 poi metterò un'altra volta il numero 1 e questo count andrà a 2 poi il numero 3 quindi dieci volte avrò se questo come dire l'idea di questo programma è che io tutte le volte inserisco un numero e poi faccio la somma e quindi la prima volta mi stamperà 1 poi mi stamperà 2 poi mi stamperà 3 fino a stamparmi 10 se è vuota se è già piena fino a 100 stamperà 101 102 110 ok? vediamo cosa succede se lo eseguiamo ma magari l'avete già immaginato cosa succede vedete cosa succede? no ce ne erano già 110 direi a questo punto nel database noi avremmo dovuto stampare 111 la prima volta poi 112 113 114 115 116 117 fino a 120 fino a 119 120 invece stampa 111 111 112 poi 3 volte 113 poi 114 poi 115 116 gli salta stampa 117 stampa 2 volte 118 non stampa 119 120 perché? secondo voi? il motivo è lo stesso di prima in realtà non è tanto il commento in chat è perché la insert è più lenta della select counter non è tanto questione di lentezza possono anche essere veloci uguali perché le due query sono indipendenti mi piace di più come risposta sì non è sbagliata perché la insert è più lenta ma sono asincrone no? quindi ricordate cosa ho detto prima che dbrun javascript arriva qui e dice a dbrun eseguiti dbrun lancia la callback e che comprende ovviamente questo inserimento e ed esegue quindi SQLite inizia a inserire il numero e nel frattempo dball inizia lancia un'altra callback per fare l'account e quindi ogni tanto l'account riesce a contare il numero appena inserito ogni tanto l'account non riuscirà a contare il numero appena inserito perché magari c'è l'insert di prima ancora in esecuzione quindi riconterà lo stesso numero ovviamente se la insert fosse infinitamente più veloce dell'altra quindi anche non lenta uguale questo capiterebbe meno frequentemente ma potenzialmente potrebbe capitare perché in realtà sia dbrun che dbrall non fanno solo la insert ma verificano prima di tutto se il database è aperto se il database è occupato se il database è aperto e non è occupato fanno la insert poi restituiscono questo this la std nel caso della insert e se l'account fa la stessa cosa verifica se il database è aperto se è aperto se non è aperto lancia un errore se è aperto fa la query e poi restituisci i risultati quindi ci sono ancora una serie di operazioni in mezzo tra l'uno e l'altro oltre alla semplice query di inserimento ci sono una serie di controlli intorno sì, dbrall dovrebbe restituire errore se esegue quindi come una insert o comunque non restituire niente perché dbrall si aspetta uno statement che ritorni qualcosa e insert non ritorna niente ecco, non vengono stampati 115 e 116 perché in questo caso probabilmente quando, vedete, lui stampa dieci volte uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci quindi questo console log viene effettivamente chiamato dieci volte perché in questo caso probabilmente la insert, l'account riesce a eseguirsi due volte prima che l'inserimento di uno e due numeri venga completato poi a un certo punto viene completato l'inserimento di entrambi i numeri ovviamente uno alla volta e a quel punto il giro dopo la select count riesce a stampare 117 diciamo che graficamente questo è quello che che capita più o meno graficamente per renderci conto che la insert parte e poi mentre l'inserimento sta completando parte anche la dball mentre la dball sta completando la insert potrebbe ripartire poi riparte la dball ma riparte anche la insert anche se questa non è ancora finito e la dball quindi questa non la vede e così via poi a un certo punto magari si riescono anche a rallineare però questo può capitare ovviamente in questo modo no? perché? perché sono asincrone quindi ognuno ha una sua vita la insert fa le sue cose e non sa cosa succede all'altro e la dball fa le sue cose e non sa cosa succede all'altro esattamente come prima nell'altro esempio più semplice solo che nell'altro esempio avevamo una sola callback e una sola fill quindi la soluzione che abbiamo adottato prima che è quella di dire se dobbiamo manipolare il db lo mettiamo nella callback il risultato della manipolazione del db la mettiamo nella callback qui non funziona no? perché noi potremmo dire questo dball lo mettiamo all'interno della callback del dbrun quindi qui dopo l'if quindi qui questa dball tutta potremmo spostarla e metterla qui no? perché non funziona? beh perché questo è un ciclo quindi noi facciamo un inserimento e poi un select ma poi ci servirebbe anche inserire la dbrun qui perché sono uno dietro l'altro quindi inserisco conto ma poi inserisco poi riconto eccetera quindi non ci basta aspettare che l'inserimento sia finito ma per reinserire in un altro dobbiamo anche aspettare che la select count asterisco sia finita quindi creiamo questo ciclo quindi non possiamo risolverlo come l'avremmo risolto nell'esempio precedente spostando tutto all'interno della callback del primo perché appunto questo è un ciclo che ha questo problema questo ciclo va fino a 100 l'esempio è fino a 10 ma è la stessa cosa no? con 100 ovviamente l'effetto a volte si vede in maniera più pronunciata rispetto a che con 10 però diventa anche lunghissimo da vedere lo schermo e quindi questo ci crea dei problemi perché ovviamente anche noi nel nostro codice se pensate a una manipolazione del database è ovvio che a un certo punto avremo magari un inserimento e poi una lettura dal database e come facciamo ad aspettare che uno finisca prima di fare l'altro no? è normale inserisco faccio una select asterisco poi magari dopo un po' inserisco qualcosa o faccio un'altra query è normale in un programma che manipola che ha a che fare con il database non fare solo una sola query ma che ce ne siano molteplici allora in questo caso all'interno di un ciclo è sicuramente molto problematico se sono molteplici ma sono lineari all'interno di un ciclo possiamo adottare la stessa soluzione no? che avremmo potevamo adottare qui quindi spostare tutto mettere tutto all'interno della callback mettere tutto all'interno della callback questo otteniamo però una callback che dentro per esempio ha un dball poi ha un dbrun poi all'interno del dbrun ha un dbget poi all'interno del dbget ha un altro dball quindi otteniamo una callback che non solo è lunghissima ma è anche tutta sfasata no? c'è una callback con dentro una callback con dentro una callback con dentro una callback finché non ci serve finire di manipolare il risultato o di aspettare il risultato della callback precedente quindi vedete questo è a noi avremmo bisogno in questo caso come vi dicevo di mettere dentro la dbrun e la dball e poi dentro la dball la dbrun ma ovviamente non è che possiamo fare questa questa operazione copia e incolla come prima dubbi fin qui il fatto che ci sia un problema è chiaro e adesso vediamo anche una soluzione non questa una soluzione migliore di questa però è chiaro perché c'è un problema il fatto che ci sia un problema e come in questo momento non possiamo del tutto risolverlo perché java che usa molto le callback asincrone quindi è bene che questa cosa sia allora ma noi come dire non è che non possiamo inserire la dball in dbrun noi dov'è noi potremmo proviamo a farlo e qui scrivere else e fare così noi noi possiamo fare questa cosa qui però qual è il problema in questo programma è che c'è questo ciclo perché noi quello che dobbiamo fare è inserire aspettare che l'inserimento vada sia completato fare il select count una volta che il select count è completato fare l'inserimento quindi in un certo senso dovremmo ma è orribile ovviamente fare così qui dentro ricopiare questo e poi qui dentro ricopiare tutto perché ogni volta facciamo un inserimento dobbiamo aspettare che l'inserimento sia completato poi dobbiamo aspettare che il select count asterisco sia completato e quando è completato e ci stampa 111 a schermo facciamo un altro inserimento se no continuiamo a avere lo stesso problema aspetto un inserimento ma poi inserisco prima che il select count finisca e quindi non è detto che il risultato sia quello giusto poi questa cosa che vi ho fatto vedere praticamente per fare questa cosa qui dobbiamo togliere il ciclo e fare 10 volte questo copia-incolla che è una cosa assurda no? quindi e poi guardate come diventerebbe inoltre tutto questa callback quindi questa è una cosa che ovviamente possiamo farla diciamo che il ciclo non esiste e facciamo un ciclo a mano per risolvere il problema ma ovviamente è è assurdo no? fare una cosa del genere quindi una soluzione con quello c'è una soluzione come dire abilitata dal linguaggio che adesso andiamo a vedere poi volendo c'è una soluzione abbastanza complessa che è citata nelle slide e che guardiamo velocemente che è essenzialmente questa cioè concettualmente facciamo quello che che vi ho fatto vedere adesso con questo copia-incolla essenzialmente facciamo un oggetto methods che continua solo dei metodi e e c'è un metodo insert c'è un metodo print che fa questo count essenzialmente e poi c'è un metodo next c'è un metodo next che dice controllo se c'è una variabile vero o falsa se la variabile è se la variabile è falsa faccio un inserimento e la metto a vero e faccio un inserimento quindi chiamo questo metodo questo metodo insert vedete fa questo else next che quindi quando l'inserimento è finito chiamo questo next che controlla la variabile e a quel punto la variabile sarà vera e allora chiamo il metodo print il metodo print a sua volta questo metodo next che richiamerà questo e controllerà se la variabile è vero o falsa e quindi dato che in questo caso è falso richiamerà insert che dopo l'esecuzione della insert richiamerà print che dopo l'esecuzione della select count richiamerà insert eccetera eccetera affinché non arriviamo a 10 100 al valore che vi ho messo nel ciclo quindi questo è abbiamo tolto il ciclo invece di fare copy and call e il codice l'abbiamo strutturato in metodi questo ve lo diamo come esempio è un modo in cui funziona se noi eseguiamo questo questo coso questo che si chiama queries sync vedete che quello fa su 100 volte ma vedete che funziona se guardiamo gli ultimi 10 per esempio vedete che funziona ma è ovviamente un metodo diciamo si può fare ma era l'unico metodo che magari avevano chi lavorava in javascript prima di es5 ma è un metodo che adesso non è assolutamente raccomandato da fare ma essenzialmente è la versione corretta di quel copy and call che abbiamo provato a fare in queries quindi e lì funziona dimenticatelo perché c'è ci sono metodi migliori per farlo altre domande sull'assincrono prima che io vado avanti con le promise che sono per esempio una soluzione a quel problema sì no va davanti ok allora vedo che qualcuno scrive quindi aspetta un attimo ah sì scusa i due punti dopo il nome del metodo sono un altro modo per per dichiarare dei metodi all'interno di un oggetto noi l'altra volta abbiamo fatto con cost nome del metodo uguale arrow function si può anche scrivere senza cost come come fosse un valore una chiave chiave due punti valore tanto un oggetto si può strutturare in quel modo è solo un modo diverso di scriverlo e il formato chiave valore ok e questo e vi dicevo queste quell'esempio comunque è già su gtab quindi se volete scaricarlo guardarvelo con calma tutti questi esempi sono già su gtab potete farlo allora una cosa che risolve non solo quel problema complicato no della insert seguita dalla set count seguita dalla insert eccetera ma anche quello che si chiama in javascript la callback hell l'inferno delle callback quindi avere una callback e dentro una callback e dentro una callback e dentro una callback e avanti così quindi quello che abbiamo simulato facendo copia e incolla poco fa questa sfilza di callback infinita che si spostavano sempre più a destra per risolvere tutte quelle cose e anche rendere i codici un pochino più leggibile e gestibile da S5 e S6 hanno introdotto un oggetto che si chiama promise una promessa questa è la callback hell che vi dicevo quindi se dovete fare più funzioni più azioni asincrone in cui uno deve aspettare il risultato perché se no succede quello che abbiamo visto deve per forza aspettare il risultato della funzione asincrona precedente dovete mettere la funzione asincrona 2 all'interno della callback della funzione asincrona 1 e la 3 all'interno della callback asincrona 2 e la 4 all'interno della callback asincrona 3 e così via questo si chiama dato che c'è anche un livello di nesting tutte le volte come abbiamo visto questo si chiama callback hell perché da una parte è questo blocco di codice enorme che si sposa sempre di più e anche poi difficile capire dove inizia una callback dove finisce se c'è un problema eccetera questo è però l'unica cosa che si poteva fare prima delle promise come nel primissimo esempio che abbiamo visto in cui facevamo in cui abbiamo spostato la console log fuori dal dalla callback asincrona e poi ovviamente c'è anche il problema che abbiamo visto adesso come caso particolare un insert che deve due funzioni asincrone all'interno di un ciclo e per semplificare in parte risolvere questi progetti questi problemi hanno introdotto questo oggetto che si chiama promise la promise essenzialmente è una promessa che una callback fa a javascript diciamo così fatemelo semplificare in questo modo quando troviamo una promise javascript sa che è un oggetto che una callback gli promette che a un certo punto verrà riempito verrà riempito o correttamente perché l'esecuzione della callback è andata con un fine o verrà riempito con un errore però verrà riempito è come dice il nome una promessa che una callback fa al programma che chiama al chiamante della callback quindi il chiamante della callback ha a quel punto un oggetto che a un certo punto avrà le informazioni che servono e in un primo momento sarà un oggetto di tipo promise quindi in un certo senso vuoto però è un oggetto che a un certo punto assumerà un valore corretto in qualche modo è un blocco fondamentale anche per le cose che vengono dopo che vedremo come la funzione async che semplifica ulteriormente la scrittura rispetto alla promise e ci fa trattare le funzioni asincrone le callback asincrone come se fossero sincrone quindi scriviamo un programma in maniera più lineare e come dicevo una promise è un oggetto che rappresenta il completamento eventuale a un certo punto o il fallimento di un'operazione asincrona quindi una funzione asincrona callback asincrona ritornerà secondo questo utilizzando le promise ritornerà una promise in questo oggetto che a un certo punto nel futuro avrà o il risultato per esempio in questo caso la query del database il risultato della query del database oppure un fallimento quindi l'errore che è derivato da la db run o la db all le callback ovviamente le promise ovviamente possono essere create e consumate utilizzate quindi una callback asincrona creerà una promise restituirà una promise e per esempio chi chiama quella callback o chi ne ha bisogno dopo consumerà la promise quando avrà il valore corretto e per consumarla come vi dicevo la promise inizia in questo stato che viene chiamato pending questo stato di promessa ti prometto che a un certo punto ci sarà qualcosa e quindi il chiamante può continuare l'esecuzione mentre aspetta che la promise farà il suo processamento quindi la query nel database e la funzione asincrona e poi gli darà delle risposte e a un certo punto queste risposte arrivano in uno dei due possibili stati uno stato che si chiama fulfilled risolto anche resolve che la promise è stata risolta quindi l'esecuzione dell'operazione è completa e ci sono tutte le informazioni che ti servono la query del database ha restituito cinque righe e sono queste oppure rejected cioè c'è un errore la promise l'operazione collegata alla promise non è andata a buon fine come si crea una promise una promise si crea con un oggetto con la chiave new come in questo caso vedete promise new promise e ha due parametri resolve e reject resolve viene chiamato col valore col valore completo diciamo così dell'operazione mentre reject viene tipicamente chiamato con l'errore quindi nel nostro caso se noi dovessimo immaginare una callback del database questo sun value sarebbe il nostro results il nostro rows e le nostre righe che emergono dal database come oggetto che sarebbero quindi la condizione lo stato per cui la promise è stata risolta è stata completata con successo e se invece ci fosse stato un errore nel database o un errore con la query avremmo avuto un reject della promise quindi la promise ha questi due parametri e la promise che sono funzioni e che appunto dicono se la promise dallo stato pending dallo stato in cui appunto è ancora è una promessa di avere un risultato passerà a uno stato sono stata risolta sono a posto oppure passerà in uno stato sono stata rifiutata perché c'è stato un errore eccetera e restituirà nel primo caso ovviamente il contenuto della dell'operazione nel nostro caso ripeto la il risultato della query dal database e nell'altro caso è stato tipicamente un errore e le promise sono se ne avessimo una callback particolarmente interessanti perché se vogliamo rendere quella callback che ritorna una promise ci basta fare return new promise quindi la nostra callback che chiama la query nel database basterebbe scrivere come prima riga return new promise resolve reject e lì dentro se c'è un errore fare come prima fatemi tornare qui in questo caso dove c'è ifr quindi qui scrivere return new promise quindi qui return new promise adesso non lo faccio in maniera corretta ci vogliono le parentesi ma return new promise e qui invece di fare throw error reject error e dopo e qui invece resolve qualcosa quindi faremo sì che questo callback ritorni in questo caso una promise che può essere utilizzata prima di eseguire questo e qui e qui c'è un esempio un esempio con il set them out ma è una funzione costruita doc in cui dice o faccio una funzione wait con una durata che a un certo punto verrà chiamata una durata a tre secondi questa funzione ritorna una promise con resolve reject se questa durata è minore di zero restituisco un reject con un errore del tipo time travel not yet implemented in cui non puoi avere non puoi aspettare per un tempo minore di zero tipicamente diciamo così mentre se duration in questo caso è maggiore di zero applica un time out un time out che sarà chiamato quella duration e quando sarà quando scatterà semplicemente chiamerà resolve perché in questo caso non ci interessa ritornare niente dal time out non ci interessa fare operazioni con il time out ma solo aspettare due secondi per esempio quindi se qua fosse wait duration 2000 millisecondi non entreremo in questo if quindi chiameremo un set them out con 20 con 2000 e quando questo time out è finito quando questo time out scatta sono passati questi due secondi viene chiamata alla resolve e quindi questa funzione tornerà indietro con questa promise promise vuota in questo caso non contiene un valore contiene solo l'indicazione che la funzione asincrona è completata correttamente poi non ci sono valori da estrarre da questa promise in questo caso particolare che è un caso abbastanza particolare in realtà come consumiamo le promise quindi qui potremmo fare fatemi togliere solo l'errore potremmo fare una roba del genere in cui torniamo a una promise eccetera 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 vabbè poi al netto di tutto e ritorniamo reject e ritorniamo resolve se come gestiamo questo reject e resolve lo gestiamo in questo modo questa è la funzione wait che abbiamo chiamato prima o la funzione la callback che viene chiamata la dbrun e possiamo usare due metodi then e catch usiamo then per o meglio questa wait promise quando viene risolta quindi quando viene fatto il resolve utilizzerà questo then passando qui l'eventuale contenuto del resolve e farà le sue operazioni se invece la promise viene rifiutata non verrà chiamata il then ma verrà chiamata il catch che ritornerà qui l'oggetto che viene risultato dal reject e si potrà manipolare in base a quello che c'è bisogno stampando la scherma per esempio il motivo dell'errore il motivo del rifiuto quindi quando una promise è completata in stato fulfilled resolved o in stato rifiutato o rejected viene chiamato una callback quindi quando viene chiamato quando viene fulfilled in maniera positiva quindi viene chiamata la then quando invece viene rifiutata quindi non è è completata non stiamo più aspettando non siamo più nella sotto pending ma viene rifiutata e perché c'è un problema viene chiamato il catch sono ovviamente sia il then che il catch sono concatenabili vedete questo then questo catch applicato al then potete anche mettere il punto catch punto then se volete potete solo usare il punto then e ignorare l'errore oppure solo il catch e ignorare l'errore sono metodi separati che tipicamente si usano insieme perché se uno vuole anche intercettare spesso l'errore che potrebbe venire dalla promise e ovviamente ogni funzione ogni funzione registrata col then viene poi invocata solo una volta quindi appena c'è un risultato appena la promise viene riempita con un result con resolve c'è un risultato e si processa immediatamente il risultato quindi anche qui c'è una callback ma vedete non è più la callback hell di prima perché ci sono solo punto then punto catch e qui c'è c'è un altro esempio con la nostra if con il nostro wait di prima vedete il nostro wait di prima facciamo un resolve senza nessun oggetto e quindi semplicemente nel then non passiamo nessun non abbiamo nessun parametro che rappresenta il risultato e i metodi oltre al then e al catch c'è anche un finally dove la differenza qual è? ripetiamo per il then e per il catch il then è una callback che viene eseguita a sincrona e viene chiamato quando c'è stato uno stato fulfilled anche in realtà rejected potremmo gestire tutto il rejected anche dentro il then ma tipicamente non si fa si usa il catch il catch per gestire lo stato rejected e il finally se ci serve un qualcosa da eseguire in ogni caso quindi il then si può usare per entrambi i casi fulfilled e rejected quindi resolve e reject ma tipicamente si usa solo per il fulfilled per il resolve il catch si usa per gestire un errore e magari abbiamo delle operazioni da fare sia che la promise venga risolta correttamente sia che la promise venga risolta venga rifiutata e quindi se avessimo delle operazioni da fare ma dobbiamo comunque aspettare il risultato che viene dalla promise per per procedere perché dobbiamo aspettare comunque di sapere se il risultato è andato a buon fine o meno per rimanere eseguire altro codice e possiamo farlo col finally quindi sia che la promise venga rifiutata o meno col finally eseguiamo dell'altro codice che viene eseguito in ogni caso quindi se per esempio avessimo del codice in comune tra il den e il catch potremmo invece di duplicarlo tra il den e il catch potremmo metterlo nel finally tutti questi metodi ritornano promise se servisse tipicamente ritornano promise se servisse vuol dire che ci permette di per esempio concatenarli per cui la den ritornano promise che può essere intercettato dalla catch quindi questo tipicamente non viene gestito qui ma viene gestito dalla catch ma possiamo scrivere punto catch proprio perché viene questa ritornano promise che può essere intercettata da questo non rejected ritornano promise in questo caso riscitata in questo caso qui quindi come si crea e si consuma una promise qui c'è un esempio e abbiamo questo prom che è un oggetto di tipo promise che avrà appunto i parametri resolve e reject che farà qualcosa poi ad un certo punto dirà resolve x e reject x e qualcun altro quando chiama questa promise potrà dire punto den immaginando che questa sia una funzione potrà dire punto den e gestire x nel caso positivo oppure punto catch e gestire y nel caso invece in cui ci sia una rejection e vabbè come vi dicevo le promise si possono anche concatenare quindi non solo avere den e catch ma anche avere come in questo esempio den 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 cosa vuol dire e questo permette per esempio di risolvere il problema di prima cosa vuol dire che questa viene chiamata get repo info quando questa get repo info restituisce un valore che sarà questo repo solo allora chiamo get issue di repo quando get issue di repo viene risolto correttamente quindi viene fatta una resolve viene chiamato questo den e questa get issue restituisce issue solo quando issue è una promise fulfilled quindi piena corretta allora viene chiamato get owner passando il parametro owner di issue di questo issue qui quando get owner che ritorna una promise viene riempito correttamente restituirà un oggetto che si chiama owner e quindi questo den verrà chiamato solo quando viene fatto il resolve e a quel punto il send mail può essere invocato passando l'email di questo owner quindi questo è quello che abbiamo fatto prima in un altro modo potremmo dire facciamo l'insert qui facciamo l'insert dal database quindi den id db.run qualcosa quando l'insert è andato a buon fine e restituirà un id che magari non ci serve ma possiamo usarlo per boh per fare qualcosa per esempio fare una query solo su quell'id e quindi restituirà un id scusate qui vabbè rifacciamo questa è il nostro db.run con la sua callback quando torna il db.run con la sua callback quindi quando facciamo l'insert essenzialmente e il risultato del db.run sarà qua e questo potrebbe essere un db e a quel punto qui possiamo fare il db.all quindi fare la nostra query utilizzando questo db per esempio questo ci garantisce che dopo l'inserimento facciamo sicuramente una una query di select che parte solo quando l'inserimento è stato completato quindi l'equivalente di mettere una callback dentro l'altro in questo caso lo facciamo chiamando la prima permettendo punto then e chiamando la seconda solo quando il risultato della prima è disponibile e poi in questo esempio c'è anche un uso del finally nel caso in cui in ogni caso comunque vogliamo chiamare questo metodo che è log action e qui c'è un altro esempio di di chaining un po' più complicato che usa una cosa che è il fetch che in realtà non sapete ancora ma serve per fare query rispetto a un database sì in questo caso il finally si esegue praticamente dopo l'ultimo vabbè o dopo il catch se ci fosse un catch o dopo l'ultimo then che sono concatenate quindi questa viene eseguita questa prima poi c'è la seconda poi c'è la terza poi eventualmente c'è il catch e poi c'è il final e ci sono le promise si possono creare come abbiamo visto oppure ci sono API soprattutto capita spesso questo che ci sono API che già restituiscono una promise e quindi a quel punto non cambia niente magari come scriviamo la funzione in un certo senso come se il nostro db run invece di comportarsi come si comporta restituisce una promise questo può capitare per alcune API e quindi non dobbiamo creare noi la promise nella callback ma semplicemente la callback già ci restituisce una promise e allora a quel punto noi chiamiamo la callback esattamente come la chiamiamo finora ma lei ci restituirà una promise e quindi dovremmo fare una cosa come questa quindi semplicemente consumare la promise questo esempio ripeto è un esempio particolare di un fetch per di nuovo far vedere il chaining e eventualmente il catch ma non è fondamentalmente importante mancano anche i punti virgola da qualche parte tra l'altro poi facciamo un esempio ovviamente come esercizio sulle promise applicate al database e in particolare SQLite 3 non restituisce promise da solo come abbiamo visto quindi costruiamo noi una promise e la consumiamo così vediamo tutto il processo in aggiunta a restituire promise singole si possono anche chiamare promise in parallelo io non voglio aspettare non voglio fare solo fare la prima poi aspettare la seconda voglio lanciarne magari due o tre e poi aspettare magari sotto queste due o tre perché magari ho questo bisogno di fare questa chiamata asincrona in parallelo mi fermo perché qualcuno sta scrivendo in chat allora non vorrei andare avanti prima di allora come vedere nella slide 53 se ad esempio stato restituisce un reject viene eseguito console.log sì esatto se uno di questi restituisce un reject qualunque sia viene chiamato il catch è il motivo per cui il catch è alla fine perché così intercetta tutti perché in realtà no questo se viene rifiutato questo passa questo den che può gestire il rifiutato che quindi restituisce subito immediatamente non fa niente restituisce una promise rifiutata che restituisce una promise rifiutata che finalmente viene intercettata dal catch dicevo è anche possibile lanciare promise in parallelo può capitare magari non capita frequentissimamente ma può capitare e ci sono due modi per farlo con alcune differenze la prima è promise all e poi si consume in questo modo vedete faccio promise all le promise le dieci promise che voglio lanciare e poi aspetto il risultato di tutte e dieci quindi lancio la nostra insert lancio una select su qualcosa che non dipende dalla insert lancio un'altra promise che fa un set them out lancio qualcosa e poi voglio aspettare non solo che una di queste abbia finito prima di procedere con l'esecuzione ma voglio aspettare che tutte queste abbiano finito prima di procedere con l'esecuzione quando voglio fare un'operazione del genere posso usare promise.all che prende un array di oggetti promise come un input questo promise è qui e ritorna una promise quando tutte hanno completato se una delle input promise viene rifiutata allora la promise questo oggetto fallisce quindi è per chiamarle tutte se tutte hanno successo va bene se una sola non ha successo non importa questo promise all fallisce se tutte le promise tornano un valore fulfilled quindi resolved questo results qui è un array dei valori che vengono risolti quindi per esempio potrebbe essere il completamento dell'id dell'inserimento in un database le righe di una query select asterisco su una tabella dove non si parla di inserimento il risultato del set timeout di una scadenza di timeout per qualcosa quindi un array con questi parametri con questi oggetti dentro e poi si può fare quello che si vuole con questo array come prima e da notare una caratteristica della promise all che questo input qui può anche contenere non promise cose che non sono promise in quel caso è come se fosse fulfilled immediatamente perché non ha una promise e quindi è sicuramente già restituito e ritornato promise.race invece anche questa per lanciare più promise in parallelo esattamente come all ma a differenza di quello che aspetta tutte o si rifiuta appena una non funziona appena una viene rifiutata promise.race ritorna una promise che viene o risolta o rifiutata quando la prima delle promise nell'array viene rifiutata o non rifiutata viene rifiutata o accettata quindi non aspetta in un certo senso tutte ma appena la prima viene rifiutata o accettata decide va avanti decide cosa fare poi a un certo punto magari arriveranno anche le altre ma restituisce subito appena la prima e completate in qualche modo in qualche stato tutto non troppo scuro fin qui andiamo avanti io voglio fare ancora le sync e la wait che sono solo un modo più facile di scrivere le promise e poi facciamo un esempio unico con facciamo una pausa e poi un esempio unico con tutti ok così capiamo meglio anche esattamente come in pratica usiamo le promise perché un conto è vederla sulla slide che crea un oggetto un conto invece per esempio usarla all'interno del database che sarà una di quelle operazioni che capiterà il più spesso possibile e poi tante volte consumeremo solo le promise non dovremo crearle perché ci sarà già la funzione che restituisce una promise quindi non dobbiamo preoccuparci noi di creare una promise ma solo di usarla ora dato che le promise come vedete qui per esempio sì sono sono carine sono meglio di questa callback hell che abbiamo visto prima ma comunque se questa callback qui richiedesse fatemi cancellare ecco sono un po' diciamo così hanno le loro caratteristiche per scriverlo perché il risultato di questa funzione è scritta qui e praticamente quindi questo quello che questa funzione ritorna quando la promise è andata successo è scritta qui quindi quello che questa funzione ritorna quando la promise è andata successo è scritta qui quindi c'è questo meccanismo e poi c'è comunque qui una callback che di nuovo può essere molto lunga e quindi dopo questa lunga callback e comunque bisogna ricordarsi che quello che questo ritorna è scritto nella callback successiva e così via quindi funzionano risolvono la callback hell ci permettono lo vedremo di risolvere molto più facilmente e agevolmente il nostro problema del for che avevamo prima con la insert più la select ma sono un grosso passavanti rispetto a non averle ma in javascript hanno anche deciso di semplificare ulteriormente questo e di in un certo senso rendere questo meccanismo delle den del catch e di semplificare ulteriormente questo meccanismo appunto delle den del catch e quant'altro in questo modo con due parole chiave che sono async e await l'idea di async e await è che essenzialmente che sono totalmente compatibili con le promise potete anche mischiare potete usare un po' async e poi anche il punto den se volete oppure potete creare una promise e poi usare la await dopo quindi si possono anche mischiare non sono esclusive perché sono un modo solo più facile diciamo così di scrivere vedete come scrive qui la slide semplificare la scrittura delle promise con async e await quindi sono due parole chiave async e await che viaggiano in coppia tipicamente e e la loro idea è questa invece di scrivere codice asincrono che sembra codice asincrono perché o ho tutta la callback l oppure ho punto den punto den punto den punto catch e così via scrive poi del codice asincrono che però sembri codice asincrono codice normale quindi senza come abbiamo fatto fino a a lunedì e e cosa dobbiamo fare per per fare questa cosa beh tutte le funzioni che ritornano alla promise che sia nuova che sia creata da noi o sia creata direttamente dalla dall'API da queste funzioni bisogna prependere quindi mettere prima di quella funzione la parola chiave asinc quindi asinc funzione che restituisce una promise quindi asinc function fai qualcosa aperta parentesi eccetera perché function fa qualcosa restituisce una promise e tutte le volte che invece dobbiamo gestire una promise quindi che scriveremo then possiamo scrivere await prima della funzione quando viene chiamata l'effetto è lo stesso che l'await come dice il nome fa aspettare che la promise venga fulfilled o rejected comunque la fa aspettare e poi esegue quello che viene dopo e qui c'è un primo esempio in cui si vede solo la asinc e ovviamente questo non è non è una promise vera e propria perché torna sempre test come stringa ma l'idea è questo facciamo finta che comunque ipotizziamo che questa sia asincrona quindi che aspetti qualcosa prima di funzionare in questo caso aspetta test che verrà risolto subito perché ovviamente non c'è niente da fare quindi questa sample function ritornerà una promise perché c'è async e che immediatamente ovviamente ritornerà una promise in questo caso e questa promise può essere gestita esattamente come gestiamo le promise quindi con punto den console log quindi stampando il risultato stampando test essenzialmente oppure potevamo scrivere await sample function e memorizzare potremmo scrivere const a uguale await simple function e poi console.log a o come ho chiamato l'oggetto const quindi quindi una cosa del genere fatemela scrivere const const a uguale await nome della funzione e poi log console.log a quindi questo è un altro modo di scrivere questa riga in questo esempio non si può scrivere così in questo esempio specifico non si può scrivere così perché ve lo anticipo ogni await deve essere all'interno di una funzione dichiarata con async qui in questo caso non sappiamo cosa c'è prima ma possiamo ipotizzare che non ci sia niente e quindi qui non si può usare await perché non siamo all'interno di una funzione async però se qui fuori ci fosse una grossa function è dichiarata con async vabbè non così ma per rendere l'idea se qui fuori ci fosse una grossa function con async potremmo fare potremmo usare la await esatto con questa scrittura await qualcosa console.log questa riga aspetterà che questa a venga riempita quindi è l'equipo di scrivere punto den ma lo scriviamo in maniera sincrona lo scriviamo come scriveremo dei programmi normali diciamo senza le componenti sincrona si preoccupa javascript di fare questo di attendere al momento giusto quando c'è la keyword await si blocca in un certo senso non è che si blocca attende e aspetta che attende che in questo caso a sia stata riempita prima di eseguire la riga sotto e l'equivalente di aver messo come in questo caso console.log dentro il den o console.log dentro una callback quando se non usiamo le promise una callback quando la funzione ritornava quindi sì la wait aspetta che la promise sia ritorni qualcosa fulfilled o rejected quindi è un modo sincrono di scrivere punto den ma vediamole singolarmente async function anche se viaggiano in coppia la funzione async definisce che una funzione è asincrona deve comportarsi in maniera sincrona e anche una callback ovviamente anche una funzione normale comunque una funzione qualunque non necessariamente una callback all'interno di un'altra funzione e vedete le funzioni asincrone operano in ordine separato che il resto del codice come abbiamo visto immaginandolo e in questo caso ritornano una promise implicita nel senso che non dobbiamo scrivere return ogni promise e come il loro risultato quindi si comportano come funzioni asincrone ma si possono scrivere esattamente come funzioni asincrone quindi basta solo ricordarsi di prependere alla funzione questa async e per cui tutto quello a un certo punto il return che c'è qui è un return che verrà ritornato con una promise come nel caso di prima con test con la stringa test lì non c'era bisogno di una promise ma perché test viene ritornato subito una stringa ma in quel caso c'era una promise che veniva immediatamente ovviamente risolta e quindi poteva andare avanti immediatamente il programma quindi invece di scrivere new promise scriviamo async invece di scrivere return new promise in una funzione scriviamo async davanti al nome della funzione await come abbiamo detto serve invece non quando si dichiara in un certo senso una promise ma quando la si vuole consumare quindi l'operatore await così aspetta che una funzione che torni promise torni la promise e quando è tornata riempie il valore di ritorno questo ripeto è l'equivalente di scrivere expression se vogliamo usare la cosa che ho scritto qui punto then e return value qualcosa dove qualcosa avverrà qui dopo ovviamente vedete è solo è un modo diverso di scrivere la stessa cosa ma che ci fa tornare nel modo normale diciamo così che conosciamo finora di scrivere codice perché quello che questa funzione ritorna lo mettiamo alla sinistra dell'uguale e non lo mettiamo all'interno di un then che viene dopo quindi come vi dicevo await blocca l'esecuzione del codice all'interno della funzione della funzione asincrona finché la promise non viene risolta non viene non viene completata a quel punto quando la promise viene completata si va avanti se la promise è rejected la wait dato che non c'è questo corrisponde al then non c'è un corrispondente del catch la wait se c'è una promise rifiutata lancia un errore e quindi per gestire quello invece di usare il punto catch bisogna usare il try catch il normalissimo try catch che usereste quindi try questa cosa qui catch error e lì si gestisce la promise rifiutata quindi ripeto è un modo di scrivere le funzioni asincrone col punto den col punto catch eccetera in maniera che sembra sincrona ma si comporta come in questo modo qui e come dicevo prima se il valore di un'espressione che segue l'operatore wait non ritorna una promise è convertita immediatamente in una promise risolta quindi non cambia niente se questa expression fosse una funzione che non torna una promise ma che torna immediatamente una stringa quindi non definita quella wait non definita quella sync o non definita con il return new promise ritorna immediatamente e l'altra cosa che lì forse non era scritta ma è scritta qui che per usare await voi dovete obbligatoriamente essere all'interno di un qualcosa dichiarato come una sync non potete qui scrivere await await o qualcosa perché qui siete al di fuori di ogni funzione dichiarata con una sync se fate così questo vi lancia un errore e vi dice non potete usare await al di fuori di una funzione async un errore molto chiaro però qui si può usare perché c'è questa sync e voi vedete si possono anche mischiare le due cose questa viene scritta come una promise quindi return promise non resolve ma poi viene gestita con await perché perché questa sappiamo che ritorna una promise e quindi possiamo eseguirla tutta questa funzione poi è definita come async perché è definita come async uno perché non possiamo scrivere una wait come ho detto al di fuori di una funzione che non sia definita come async e due perché in realtà questa funzione è asincrona in quanto aspetta un qualcosa che ritorna una promise quindi dato che questa funzione contiene un qualcosa che è asincrono anche lei diventa asincrona perché sta aspettando quindi possiamo dire al chiamante che anche questo sta aspettando poi come dicevo prima qui non possiamo scrivere se fossimo all'interno di una funzione più grossa potremmo scrivere await async call per aspettare un eventuale risultato di questa poi questa stampa sullo schermo quindi in realtà fa tutto a lei e quindi non c'è bisogno però se questo ritornasse result invece di stamparlo e non fossimo in una funzione fossimo all'interno di una funzione indefinita con async potremmo usare await in questo caso dato che non siamo all'interno della funzione se questa ritornasse result quindi se facesse così se facesse così quindi return questa cosa qui e a questo punto dovremmo scrivere punto then result eccetera questo perché ripeto sono equivalenti await e punto then e qui non possiamo usare await quindi nonostante fosse sia più comodo in questo momento non possiamo usarlo quindi siamo obbligati a usare punto then se noi eseguiamo questo lui stamperebbe giustamente calling poi aspetterebbe circa due secondi e poi stamperebbe result nella versione originale di questa cambio slide ma tanto l'esempio è lo stesso non ho capito la domanda può ripetere cosa succede risolve after the second non ritorna una promise risolve after the second ritorna una promise tu dici se non la ritornasse beh se non la ritornasse non può usare il set amount perché o sarebbe complicato usare ma diciamo che se facesse qualcos'altro perché il set amount è asincrono di definizione quindi per farlo dovremmo spostare tutto questo qua dentro se non tornasse una promise ma immaginiamo di non avere il set amount se questa può essere quindi due casi uno questa non torna una promise siamo nel caso prima nel caso del callback quindi il log dovremmo mettere tutto questo se usassimo il set amount dovremmo metterlo qua dentro se non usiamo le promise come facevamo come abbiamo detto all'inizio con il database questo è il caso uno il caso due e tu puoi forse rispondere alla tua domanda in un altro modo se questo non tornasse una promise ma non avesse un set amount avesse un return boh ciao quindi qualcosa che non ha bisogno di aspettare niente noi potremmo usare lo stesso await non avremmo bisogno ma potremmo usare lo stesso await in questo caso la await prenderebbe questo ciao come stringa lo metterebbe in una promise e la risolverebbe immediatamente quindi non cambierebbe niente rispetto non darebbe errore non darebbe niente ma semplicemente ritornerebbe subito come se non ci fosse quindi non viene bloccato niente ok sì sì esattamente quello è scritto qui se vuoi qua se il valore dell'espressione che segue la wait non è una promise viene convertita in una promise risolta quindi fulfilled quindi risolta quindi non blocca niente ecco qui ci sono un po' di esempi di prima e dopo quindi così giusto per anche abituarci a leggere le cose questo è quello che fareste con le promise dove questo getpi data ritorna una promise ovviamente e quindi questa ritorna una promise e quindi c'è un den e questo è l'altro modo invece di scrivere return questo punto den eccetera semplicemente si dichiara la funzione come asincrona questo è il modo dichiara la funzione asincrona con narrow function comunque bisogna sempre preprendere async non al nome ma in questo caso ai parametri e poi mettere una wait davanti alla funzione che ritorna la promise vedete il codice si semplifica molto si accorcia anche diventa più anche più facilmente leggibile come qui se den e wait sono equivalenti dove lo scrivo il codice che scriverei nelle parentesi della den quando uso la wait allora io scrivo data e poi scrivo questo codice che è il corpo della funzione quando ottengo data no? da questa funzione getpi data allora adesso qui è scritto in maniera accorciata ma uno potrebbe scrivere lo scrive prima quindi diventa un data uguale await getpi data e questo è il data e poi alla riga sotto scrivo console.log data return done sotto qui in questo spazio perché javascript quando vede wait ferma l'esecuzione finché la promise non viene riempita quindi si comporta esattamente come quando c'è il den quindi quello che è sotto il den è scritto dopo all'interno di una funzione asincrona e anche per questo no? che await deve funzionare all'interno di una funzione asincrona se no tutto il codice che verrebbe dopo in un programma verrebbe bloccato da una promise anche se non dall'attesa di una promise anche se magari non gli serve a tutto il codice aspettare che quella promise venga risolta qui ci sono altri due esempi così rispondiamo ulteriormente alla domanda perché questi sono fatti quindi get issue ritorna issue e allora scriviamo issue uguale a wait quando get issue ritorna questo issue viene riempito e solo allora viene chiamato il get owner che anche lui ritorna una promise e quindi aspetterà e quando questa wait sarà riempito questo owner avrà una promise fulfilled e solo a quel punto verrà chiamato send email quindi esattamente ripeto quello che funziona col den ma è scritto in maniera diciamo più più usuale più tipica rispetto a invece avere il den con dentro una callback eccetera 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 ovviamente anche il chaining funziona esattamente nello stesso modo perché tanto non c'è un chaining punto den punto den punto den ma semplicemente si scrive il codice in maniera normale è più facile da leggere sicuramente rispetto al punto den con dentro la variabile con dentro quello che è restituito dalla funzione precedente con un altro punto den con quello che è restituito dalla funzione precedente eccetera eccetera perché è in maniera sequenziale questa è una bellissima domanda come mai queste istruzioni sono attenzione di recente ma perché il linguaggio evolve allora sicuramente già ho scritto come ho detto la prima lezione è nato in dieci giorni la prima versione quindi sicuramente aveva molte cose e molti problemi poi il suo utilizzo è cresciuto sempre più e voi adesso non l'abbiamo ancora visto forse non lo vedremo durante le ore così sincrone diciamo ma all'inizio il web usava pochissimo javascript lo usava per fare piccola animazione magari ecco il colore che cambia o qualcosa del genere e quindi non c'era davvero un bisogno di gestire callback che avevano dentro una callback non potevi all'interno di un browser chiamare fare una query su un database perché non è il suo compito ed è giusto che non lo sia perché tanto il browser gira sul computer dell'utente non gira dove c'è il server quindi non è compito il browser per query sul database quindi all'inizio non c'era bisogno poi javascript è iniziato ad essere sempre più utilizzato nel browser e quindi qualcosa iniziava a avere problemi e ha iniziato ad essere utilizzato come nel browser in maniera indipendente dal server e quindi l'applicazione web molte applicazioni web se prendete facebook i social media i social network funzionano quasi tutti così sono applicazioni che girano nel vostro browser e chiamano non delle pagine html ma chiamano delle api attraverso quella fetch che dicevamo prima e queste api ritornano delle informazioni che devono poi che poi il sito processa e visualizza come vuole lui quindi sono più separate diciamo così server da quello che gira nel browser e quindi lì javascript ha iniziato ad avere un peso più più forte e necessità di fare cose in maniera più complicata di fare cose più complicate più lunghe e quindi sono state introdotte prima le promise e poi questa sync che è awaited che sono un'ulteriore semplificazione della modalità in cui si scrivono le promise ma non del concetto che sta dietro alle promise e poi certo è nato tutto il mondo node che ha abilitato anche la possibilità di scrivere codice javascript sul server o comunque su un computer quindi l'accesso al database e tutte queste cose qui quindi è dovuto all'evoluzione temporale di javascript che è nato diciamo così come progettino non dico giocattolo ma quasi fatemelo passare e poi adesso è diventato sta diventando un new page di programmazione vera e proprio con delle feature pensate e ragionate e certo ogni tanto risente della storia sì la wait va per forza usata dentro una funzione sync se non la mettete in una funzione sync javascript vi lancia errore è proprio un requisito non può esserci una wait senza una sync grazie a tutti esatto se volete gestire il risultato fuori dalla sync perché non potete usare una sync non potete usare una wait dato che non potete usare una wait senza sync se volete gestire qualcosa ma non potete usare wait dovete utilizzare la notazione precedente quindi .den, .catch, eccetera proprio così e ripeto, sono equivalenti la wait e la sync in modo più facile più lineare di scrivere la stessa cosa che scrivereste col .den e col .catch ma essenzialmente è come se scriveste .den e .catch solo in maniera più facile, più lineare allora questa slide riassume qualche concetto uso le promise, uso la sync, la sync e wait la risposta è le uso entrambi perché in alcuni casi non posso farne diversamente come la domanda che avete appena fatto in chat in altri casi è comodo usare la wait, usare la sync sempre bisogna usare promise.all userò promise.all e cose così, no? e qui ci sono alcuni suggerimenti e invece di creare una funzione async enorme con tanti await è meglio creare piccole funzioni async in modo che il codice non sia troppe volte bloccante all'interno di un'unica enorme funzione ma che davvero, no? ogni cosa, come dicevamo prima come chiedeva Tommaso quando diceva adesso mi torno, no? ovviamente se creavo una funzione async lunghissima con tanti await questo programma è sempre bloccato nell'aspettare un await non aspettare qualcosa, una promise che torni e magari non mi serve davvero che le ultime tre righe di quella funzione aspettino le prime tre e allora in questo caso è meglio fare due funzioni async separate in modo che a un certo punto la seconda funzione async può partire perché non dipende dalla prima, per esempio e così via e poi per finire le slide e poi facciamo pausa vi fa vedere come l'esempio nostro sul print e sull'inserimento quindi sul count asterisco e sull'inserimento si possono rivedere ma questo lo vediamo anche fra poco in codice nell'esercizio si possono rivedere con le promise e gli async quindi vedete il nostro dbrun si scrive esattamente come lo scrivevamo prima ma gli facciamo tornare una promise e il nostro select count è esattamente quello di prima in cui facciamo ritornare una promise dove per esattamente ovviamente intendo che avrà un reject e un resolve e avrà un reject e resolve quando deve restituire del valore quindi in questo caso l'inserimento restituisce solo un done ma potremmo anche fare un resolve vuoto e qui il resolve restituisce il numero che viene contato quello che prima volevo mettere dentro results che avevamo dichiarato fuori e se volete possiamo chiamarle in ordine all'interno di un ciclo facendo così await insert one e await print one perché? perché all'interno del ciclo verrà chiamato questo poi questo verrà atteso che venga completato poi verrà chiamato questo e questo si attenderà a esso completamento e poi verrà riciclato un'altra volta quindi in certo senso il programma viene bloccato rapidamente vedete qui uso await c'è un modo un trucchetto no? di usare await quando siamo nel corpo principale della funzione dato che nel corpo principale della funzione non possiamo usare await perché siamo nel top level in cui non abbiamo una funzione da racchiudere dentro una sync possiamo creare una funzione a sync e chiamare quella funzione come se fosse il main chiamare solo quella funzione che poi lancia tutto il resto del programma allora dato che questa funzione può essere definita a sync ovviamente e possiamo usare await all'interno altrimenti potevamo scrivere qui potevamo scrivere insert one then print count then e avrebbe funzionato allo stesso modo però così è più sicuramente facile da leggere e più facile anche da capire ecco occhio a eventuali bug nel senso che per esempio la db close va messa all'interno della funzione main e non al di fuori perché se no dato che qui non possiamo dichiarare await questo db close verrà chiamato prima che l'inserimento o il conto o che questo che l'inserimento o il conto verrà eseguito per cui perché java si chiama il main che è una funzione asincrona quindi si farà gli affari suoi e poi chiude il database subito dopo e quindi qui probabilmente saremo ancora io uguale 0 o uguale 1 quando il database viene chiuso e quindi se il database viene chiuso queste poi hanno problemi a fare l'inserimento e a fare la lettura su database dato che l'abbiamo chiusa esplicitamente quindi occhio comunque anche se scriviamo codici in maniera che sembra asincrona occhio a ricordarsi che la wait comunque blocca l'esecuzione e che quindi questa è comunque una funzione asincrona e quindi qui quello che facciamo qui viene lanciato diciamo quasi in parallelo rispetto a quello che c'è nel main in questa funzione che adesso abbiamo chiamato main tutte e non ho capito in che contesti e casi dovremmo usarli per esempio quando abbiamo un database possiamo usarli tutte le volte che abbiamo una callback asincrona è bene usare le promise in formato promise o in formato async await perché ci semplifica la scrittura del codice e ci abilita a fare cose che per esempio prima non potevamo fare come questo inserimento che deve attendere questa stampa che deve attendere l'inserimento e poi deve riattendere e poi l'inserimento deve riattendere la stampa e così via tutte le volte che c'è una funzione asincrona usiamo async await o le promise essenzialmente quando ci interessa che ovviamente il codice che va dopo quella funzione deve attendere il risultato della funzione asincrona come nel caso del database non solo per gestire il db adesso questo è per il db ma per gestire tutte le informazioni tutte le chiamate asincrone e allora il db è una quando la settimana prossima faremo javascript nel browser tutte le fetch sono asincrone tutte le operazioni che sono potenzialmente lunghe e bloccanti sono da evitare come abbiamo detto l'altra volta quando abbiamo introdotto la sync e quindi se io da un sito devo chiamare un altro sito diciamo un altro indirizzo c'è la rete in mezzo c'è una chiamata HTTP in mezzo e io non so questa chiamata HTTP quando mi tornerà cosa mi tornerà se mi tornerà errore non so perché faccio una chiamata HTTP e ha un altro indirizzo e dico quando poi hai le informazioni dammele non so neanche cosa farà quest'altro indirizzo magari questo indirizzo fa una chiamata a quattro database diversi fa applica algoritmi complicatissimi e lunghissimi e ci metterà cinque secondi a rispondermi ecco allora soprattutto quando sto in un browser non posso bloccare congelare la pagina interna la pagina del sito per cinque secondi perché in quei cinque secondi tutto il sito è bloccato non posso fare niente e allora devo usare una call mecca sincrona per forza perché così tutto il resto del sito continua e quindi di conseguenza le promise e await a sync quindi adesso lo usiamo col database praticamente però nel lato web lo useremo molto molto di più però potremmo usare anche con set amount se volessimo se voi aveste lettura da tastiera per esempio o scrittura da file lettura da file anche non sapete quanto è lungo il file quindi potrebbe metterci niente a leggerlo e quindi va bene anche se lo bloccate oppure potrebbe metterci mezz'ora a leggerlo e quindi non potete bloccare l'esecuzione di un programma per mezz'ora e magari il programma poi deve continuare una volta che avete letto il file non è che può aspettare tutta la vita lì o fa altre cose dopo indipendentemente dal lettore del file noi abbiamo visto la libreria SQLite 3 questa che abbiamo usato finora esistono altre librerie SQLite più recenti che trovate in questo slide in particolare volevo evidenziare questa qui che si chiama SQLite e basta SQLite 3 che è essenzialmente che è molto carina perché essenzialmente è SQLite 3 ma SQLite 3 come abbiamo visto non ha le promise quindi se noi vogliamo trasformare le chiamate come qua di quella libreria in in promise dobbiamo scriverlo espressamente return new promise eccetera la libreria SQLite è praticamente questo questa cosa qua sulla promise cioè implementa all'interno le promise quindi tutte le dball dbget eccetera restituiscono già nativamente le promise e quindi non dobbiamo scrivere return new promise eccetera è un wrapper che fa tutto quello che fa SQLite 3 ma invece di restituire solo una callback asincrona solo una funzione che chiama una callback asincrona restituisce già la promise e quindi pronta all'uso quindi molto comodo perché praticamente SQLite 3 è anche più comodo perché non dobbiamo scrivere noi return new promise adesso nell'esempio che faremo useremo SQLite 3 così ci alleniamo a capire le migliori promise a scrivere le promise eccetera però anche questo esiste poi ne esistono altre due una che si chiama SQLite molto famosa ecco poi ce ne sono molte di più che si chiama SQLite async che anche lei è promise based e c'è anche un better SQLite che addirittura è sincrono quindi non ha callback asincrona non usa le promise è sincrono e chi ha sviluppato questo better SQLite 3 dice possiamo farlo sincrono perché sono molto molto più veloce delle altre librerie asincrone e quindi non importa se blocco il programma durante la chiamata al DB se blocco tutto il programma durante la chiamata al DB e anche cose che non c'entrano niente col DB perché tanto sono talmente veloce che non ho questo problema che è ragionevole anche contando che SQLite 3 si usa soprattutto in applicazioni piccoline applicazioni prototipali non si usa sicuramente in produzione con sistemi che hanno milioni di query da fare o query molto complicate da fare in quei casi come dicevo l'altra volta si usa MySQL si usa Postgre si usano database server veri e propri quindi esiste anche quella noi ci concentreremo soprattutto sulle prime due appunto adesso facciamo un esempio dopo la pausa su SQLite 3 nei laboratori di lunedì per esempio avrete se volete il suggerimento che ci saranno in testa del laboratorio è usatene una dei due o SQLite 3 o SQLite però se volete potete dare un'occhiata anche alle altre due ok domande? allora facciamo sono le 10 e 20 facciamo 15 minuti di pausa fino alle 10 e 35 poi riprendiamo con un esercizio su tutta questa parte a sync per digerirla meglio grazie